Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Ricordiamo inoltre che sulla A1 panoramica per consentire il passaggio della pedalata amatoriale fino alle 15 sono stati chiusi i tratti autostradali tra il Bivio con la direttissima Pian del Voglio verso Bologna e tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze. Sulla FIPILI personale su strada per lavori tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze riduzione di carreggiata per lavori tra Bargino e San Casciano Sud in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!